La situazione è molto grave perché una distanza di quasi 50 ettari sta andando al fiume, quindi si è spostato tutto il terreno dai 20-25 metri sempre più giù. Un'intera vallata sta affranando, un fenomeno che in un paio di giorni ha cambiato la conformazione di un ampio fazzoletto di territorio agricolo. Ci troviamo in contrada fonda con la frazione di Sant'Anna di Seminara, zona a vocazione olivicola che nella notte tra sabato e domenica è stata svegliata da un'esplosione causata dallo scoppio di una conduttura del gas, ma quella che sembrava la causa dello smottamento si è rivelata col passare delle ore solo un effetto della gigantesca frana ancora in atto. Che dovevano fare a mio avviso dei dranaggi nel fiume principale e delle palizzate per poter alzare il livello dell'acqua. Il signor Basile che è proprietario di un ampio pezzo del fondo ci accompagna per farci vedere da vicino quello che sta accadendo. Qua in pratica è dove si è verificato l'incidente del gas, del metano. Ha fatto questa voragine e questa voragine ha creato una diffusione che qua è quasi qua. Entra una macchina tutta intera. Ho sentito boato tremendo, sempre che aumentava, che aumentava, che aumentava. Non sapevamo dove scappare. Visibilmente preoccupato il sindaco di Seminara, Carmelo Orfuso. Ovviamente la situazione è molto critica perché si sta muovendo un'intera vallata, quindi sono milioni di metri cubi che si muovono. E per questo motivo è necessario che altre istituzioni sovraccomunali si muovano per gestire la situazione. Hanno messo in ginocchio purtroppo l'economia di questa zona. C'è pericolo per le persone? Al momento no, anche se noi abbiamo per precauzione evacuato una piccola parte del paese che dista qualche centinaia di metri dalla fronte della frana. Francesco Altomonte per la CNews24.